Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Dio mio, Dio mio, Dio mio, non becco più un pronostico neanche per sbaglio. Allora, e quando uno sbaglia deve dirlo, perché se no che credibilità ha? Pronostici di Gianluca Rossi, moi, prima del trentunesimo turno del campionato di Serie A. Atalanta-Napoli, 1-1, Juventus-Inter, 1-1, Milan-Bologna, 3-0. Che cosa è successo invece? Volete saperlo? Ve lo faccio con la voce di solito di qualche ragazza che legge la schedina. A Bergamo, Napoli batte Atalanta, 3-1. A Torino, Inter batte Juventus, 1-0. A San Siro, Milan-Bologna, 0-0. Ragazzi, non ne infilo più uno. Che cosa devo fare io? Smetti di fare i pronostici. No, no, qui non è la sciaura doppia. Io vado avanti con i pronostici. E cavolo se vado avanti. Beh, comunque non mi dispiace di averli sbagliati. Non mi dispiace di averli sbagliati. Pensavo che il Milan asfaltasse. La compagine rosso-blu a San Siro. E invece 0-0. Sì, lo so, hanno fatto 37 tiri in porta. Noi mai, eh. Noi quando non vincevamo le partite tiravamo una volta. Per caso, fuori in tribuna. 37 tiri in porta. Sarà colpa dell'arbitro perché, come al solito, io non mi ricordo. Questo qua è Marinelli. Ci avranno da dire anche su Marinelli. Io non mi ricordo mai il Milan che abbia perso una partita per suoi demeriti. Ogni volta che perde l'Inter è colpa sua. Quando perde il Milan è sempre colpa dell'arbitro. È uscito dalla Champions per colpa dell'arbitro. Ha rallentato nella corsa a Scudetto per l'effetto Serra. Sarà successo anche qualcosa in Milan-Bologna. Oddio, io ho visto la partita e a me sembra che non sia capitato niente. Però ragazzi, mi sembra così incredibile che il Milan abbia dei demeriti nel non aver abbattuto il Bologna. Sarà sicuramente colpa dell'arbitro. E se non è colpa dell'arbitro della partita a Milan-Bologna è sicuramente colpa degli arbitri delle altre partite. Adesso non c'è da dire forse molto su Atalanta-Napoli ma sicuramente, figuratevi che cosa c'è da dire, no? Su Juventus-Inter. Dove io... Ma perché io ammetto quando mi va bene senza nessun problema? Perché io ammetto che Torino-Inter c'era effettivamente un rigore per il Toro? E Massa e Guida hanno sbagliato e sono stati fermati. Il rigore per l'Inter c'era? Mi dispiace. Quello in Juventus-Inter. Ce n'era un altro per la Juve? Sì, può essere ragazzi, però io mica faccio l'arbitro. Che cosa devo fare? A parte che per me l'oltre ogni ragionevole dubbio nel contatto Bastoni-Dunfris non c'è. Però vabbè, ci sta andando bene da un paio di partite. Ma voi vi rendete conto che cosa c'è successo gennaio, febbraio, marzo? Vi rendete conto che cosa c'è successo? No, ognuno guarda in casa sua e gli va bene di guardare in casa altrui solo se le cose in qualche modo vanno bene a lui, cioè se le dirette concorrenti perdono. Francamente non me lo aspettavo questo rallentamento del Milan, ma cosa può essere successo? Non lo so. Io ho rallentato talmente tante volte, mi sono inchiodato talmente tante volte, perché come vi ho detto non sono mica felice neanche della prestazione dell'Inter a Torino con la Juve. Però, però, tutti le facce da patibolo che mi dicevano quando io credevo di poter vincere lo scudetto e chi mi segue lo sa che lo dicevo in tempi non sospetti, no? Adesso mi dicono con la stessa sicumera, la stessa certezza, ma non la vittoria di Torino dove contava il risultato, cavolo se contava il risultato, con la vittoria di Torino c'è la svolta psicologica che ci porta dritti alla seconda stella. Ma questi qua non possono andare dritti a portare giù il cane, perché il cane ha anche bisogno d'aria, non possono magari evitare ad ogni partita di avere certezze assolute. Certo questo 31esimo turno è stato indubbiamente un turno largamente positivo per l'Inter e anche per il Napoli e badate bene, badate bene perché qua continuiamo a dimenticarci del Napoli, ma il Napoli c'è il Napoli di spallettone, è come se c'è nella lotta a scudetto, è come se c'è e ci sarà ragazzi fino all'ultima giornata, ricordatevelo bene, malgrado il calendario, ci sarà anche il Milan e ci sarà anche l'Inter mi auguro, però al momento la classifica dice Milan 31 giocate, punti 67, me ne aspettavo 69 ma sono 67, Napoli 31 giocate, punti 66, Inter 30 giocati, punti 63. Non menatemela con il potenziale 66 perché della partita Bologna-Inter da recuperare il 27 aprile io non parlo, per il momento come vedete, piaccia o non piaccia, noi siamo a 3 punti dal Napoli e a 4 dal Milan e quindi il Milan che fa tutto sto casino per non aver battuto il Bologna è ancora padrone del suo destino, cioè se il Milan le vince tutte è campione d'Italia, quindi non riesco a capire perché ogni tanto ci deve essere l'ossessione o sull'arbitro della propria partita o il rosicamento sugli arbitri delle partite altrui, vogliamo dire che l'Inter nelle ultime giornate è stata fortunata, favorita, no non è una parola difficile da dire, favorita, c'è malafede? Io non credo ci sia malafede ragazzi, perché tante altre volte siamo stati sfavoriti. Quindi siccome il Milan è padrone del suo destino e ha avuto grandi difficoltà invece a fare un gol al Bologna, malgrado le 37, 47, 57, 67 occasioni da gol, evidentemente guardino un pochino in casa loro perché forse cominciano ad avere anche loro qualche difficoltà. C'era Juric, l'allenatore del Toro a San Siro a studiare il Milan, sapete che io ho sempre ritenuto una giornata importante la prossima, la prossima quella che vede Napoli-Fiorentina, ma attenzione perché il Napoli secondo me può anche vincere con la Fiorentina, vado di nuovo con i pronostici, tanto li sbaglio sempre. Il Milan io conto veramente che invece a Torino non vinca, però visto come sono andati gli ultimi pronostici mi viene da dire quasi che recupererà i punti persi col Bologna a Torino-Granata, ma il grado di Juric si è venuto apposta per studiarli. Mentre l'Inter ragazzi, adesso scherzi a parte, l'Inter deve vincere col Verona. Questa può essere una giornata sicuramente chiave, però non siamo ancora padroni del nostro destino. Adesso dopo le facce da patibolo che mi hanno perseguitato per 15 giorni, adesso ho quelli sicuri perché l'equilibrio è una roba, l'equilibrio non è una roba che nei cervelli comuni la natura ha distribuito equamente, non si può avere equilibrio, non si può dire che non eravamo spacciati prima e non siamo di nuovo favoriti adesso, non si può dire. Invece io lo dico, non credevo sinceramente di accorciare in questo 31esimo turno di campionato, però visto che ho accorciato non so che cosa sia successo. Vabbè, sarà colpa degli arbitri ragazzi. Viva l'Inter, in settimana ci vediamo in live chat, forse venerdì. Abbiamo accorciato? Beh, cosa devo fare se abbiamo accorciato? Abbiamo accorciato? Un po', sarà colpa degli arbitri. Ciao, viva l'Inter!